Il Coro Gensanella Città di Biella un anno fa ha dovuto praticamente quasi interrompere concerti, appuntamenti, impegni, ma anche le prove proprio in relazione al problema Covid. Ritorniamo a collegarci con il Presidente Riccardo Bruvarone perché finalmente ritornano i concerti, ritornano gli appuntamenti. E' proprio nell'ambito di un appuntamento importante che il Coro ha quest'anno, che sono 70 anni di attività. Buongiorno Riccardo. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Allora si ricomincia? Noi ce l'auguriamo, adesso le premesse ci sono, speriamo che questa cosa vada a terminare, quindi dopo anche due anni, perché sono stati due anni abbastanza impegnativi questi qui, per cercare di mantenere il gruppo compatto. Comunque sì, diciamo che si riparte, le premesse ci sono, quindi qualcosina si comincia a intravedere. E' un appuntamento proprio imminente, vero? Sì, beh adesso domani, il 19 marzo, cade proprio la data del primo concerto ufficiale del Coro Genzianella. Allora Coro Genzianella, che poi dopo è diventato Coro Genzianella Città di Biella. Era il 19 marzo del 52 al Teatro Marconi, in occasione della Serata del Dilettante. Un gruppo di amici, amanti della montagna e del canto, messi insieme dal fondatore Nito Staic, un valente alpinista triestino trapiantato nel biellese dopo la guerra. E ha cominciato la sua attività, diciamo. Presidente Provorone, vorremmo ricordare allora l'appuntamento, mi sembra, del concerto in Duomo? Sì, non è un concerto perché facciamo proprio solo, animiamo la Santa Messa delle 11.30 di domenica, 20. Faremo qualche canto alla celebrazione, poi al limite se richiesto magari un paio di canti alla fine della Messa li facciamo, li concediamo al nostro pubblico se hanno piacere di ascoltarci. Sicuramente sarà un piacere. Sì, me lo auguro, è sempre stato così, quindi non ho dubbi su questo. Dovrebbe intervenire anche il sindaco che mi ha confermato la sua presenza. Quindi niente, speriamo che vada tutto bene, via. Assolutamente, in bocca al lupo, grazie e ai prossimi appuntamenti allora. Grazie a voi e al prossimo compleanno oppure qualsiasi altro appuntamento siamo a disposizione. Grazie, grazie mille.